Ciao a tutti, in questo video vi voglio raccontare dell'importanza di saper parlare tedesco per lavorare in Svizzera. Vi racconterò anche come sono riuscito a imparare e certificare il livello A2 di tedesco partendo praticamente da zero. Ma prima vi voglio parlare dello sponsor di questo video, cambiavalute.ch. Cambiavalute.ch è un cambio valuta online. In pratica non dovrete andare in un ufficio cambio con le banconote ma vi basterà fare un bonifico per ricevere sul conto da voi indicato la somma cambiata, quindi franchi in euro o euro in franchi. Cambiavalute però si utilizza per una ragione fondamentale perché il suo tasso di cambio è il migliore che si possa trovare. Sì, non sto scherzando perché cambiavalute a differenza di altri cambi non ha costi di commissione e non sono necessari abbonamenti. Questo significa che avrete fin da subito il tasso migliore per qualsiasi somma di denaro che desiderate cambiare. Ma perché è importante saper parlare tedesco in Svizzera? La risposta è semplicissima perché il tedesco è praticamente la lingua ufficiale della Svizzera. O meglio, non il tedesco ma un suo dialetto detto Svizzerdeutsch. Praticamente svizzero tedesco. In pratica per chi parla tedesco madrelingua capire uno svizzero non sarà così difficile. Come per uno svizzero non è assolutamente difficile capire qualcuno che parla tedesco. Ma per chi il tedesco se l'è studiato come seconda lingua passare allo svizzero tedesco è assolutamente una cosa molto difficile. In pratica per poterlo imparare e parlare correttamente l'unica possibilità è essere nati e cresciuti nelle zone dove lo parlano. Ma per farvi capire ancora meglio tenete presente che il 63% della Svizzera parla tedesco. O meglio, svizzero tedesco. Il 23% francese. E solo poco più dell'8% l'italiano. E poi in realtà c'è anche un'altra lingua che è il romancio parlata da una minoranza e rappresenta solo lo 0,5% della popolazione. Probabilmente il romancio non l'avrete neanche mai sentito parlare. Però se volete capire un po' come suona più o meno fa così. Capite qualcosa? Se non sapessi che questo è il romancio potrei pensare che sia un dialetto lombardo. Però qualche parola si riesce comunque a comprenderla. Tornando all'importanza di parlare tedesco tenete presente che insieme all'italiano raggiungerete circa il 71% della popolazione. Questo significa che avrete molte più chance di trovare un posto di lavoro. Se però considerate l'accoppiata tedesco e francese qui raggiungete più del 90%. In poche parole questo spiega perché in Svizzera interna a chi è di madrelingua tedesca o francese raramente viene insegnato l'italiano. E molte volte si preferisce passare direttamente all'inglese. Di fatto l'inglese e il portoghese sono le seconde due lingue più parlate in Svizzera. Ma adesso forse penserete, beh, che cosa mi serve parlare tedesco? Tanto io vado a lavorare in Canton Ticino e lì parlano tutti italiano. Non è proprio così. Tenete presente che per prima cosa il Canton Ticino è una specie di rimini per la Svizzera interna. D'estate molti tedeschi raggiungono il Canton Ticino come luogo di villeggiatura. Quindi se vorrete lavorare nei settori, ad esempio, della ristorazione, sapere il tedesco vi darà una marcia in più. Ma sapevate che in Canton Ticino c'è un posto dove si parla prettamente tedesco? Si tratta del Bosco di Gurin, il cui nome sembra appreso dal libro del Signore degli Anelli. E le caratteristiche di questo paesino ne ricordano anche le atmosfere. Perché si tratta di un borgo medioevale con poco più di 46 abitanti. E questo posto, disperso tra le montagne, è importante soprattutto per le sue stazioni sciistiche. A questo punto penso di vervi già convinti dell'importanza di saper parlare tedesco per lavorare in Svizzera. Non solo se si vuole lavorare in Svizzera interna, ma anche se si vuole lavorare in posti come il Canton Ticino. Inoltre, tenete presente che parlando tedesco sarà possibile allontanarsi dalla frontiera e lavorare nelle zone più interne della Svizzera, dove la competizione per i posti di lavoro è inferiore. Quindi, se volete lavorare in Svizzera, la prima cosa che vi consiglio di fare è impararvi questa lingua, anche ad un livello elementare. In questa seconda parte del video vi spiegherò i tre metodi che ho utilizzato io per impararla da zero. Il primo metodo che ho utilizzato è stato questo. L'Assimil è un libricino dove si trovano dei dialoghi e ci sono anche dei CD e una chiavetta USB che aiuta ad imparare la pronuncia. Se vi può interessare questo tipo di strumento, vi lascio il link in descrizione per poterlo acquistare. Questo metodo di studio lo definirei classico, anche se è un pochino più divertente di un tipico libro di testo. L'unica cosa è che a forza di studiare sempre con lo stesso strumento, dopo un po' per forza di cose ci si stanca. E per continuare ad andare avanti, quando non avevo più voglia di leggere l'Assimil, ho deciso di scaricarmi un'applicazione e ho scelto Busuu. Questa applicazione è particolarmente divertente e l'ho trovata rispetto a tutte la più valida. Rispetto ad Assimil, che viene acquistato solo una volta e potrete utilizzarlo per sempre, Busuu richiede un abbonamento. Utilizzando solo questi due strumenti, sono riuscito a raggiungere, partendo da 0, il livello A2 di tedesco, per poi certificarlo in un istituto svizzero. Ma per capire meglio, una breve spiegazione sui livelli di classificazione delle lingue. Partendo da quello più basso, che è l'A1, si arriva fino a quello più alto, il C2. In mezzo, in ordine crescente, ci sono tutti questi altri livelli. Se penserete che il livello A2 è niente, sono d'accordissimo con voi. Ma se avete un attimo di pazienza, vi spiegherò perché anche solo un livello A2 può essere veramente importante in certe situazioni. Il livello A2, infatti, se vi troverete in disoccupazione in Svizzera, vi permetterà di accedere a corsi di lingua tedesca gratuiti. Ed è proprio così, certificando il mio livello di tedesco nel breve periodo in cui mi sono trovato in disoccupazione, che ho potuto fare dei corsi gratuiti di lingua tedesca ed in particolare di livello B1. Il libro di testo più utilizzato è questo, Mention, che è sicuramente un ottimo libro ed è molto completo. Tuttavia, è estremamente difficile da fare, specialmente se lo volete fare in modo autonomo. In questo momento sto continuando a studiare tedesco. E ho scoperto una nuova applicazione completamente gratuita e che secondo me è assolutamente validissima. Si tratta di Deutsch Welle, di cui vi lascio il link in descrizione. Questa applicazione vi permette di imparare il tedesco dal livello 0 fino al livello B2. Con questo penso di avere esaurito gli argomenti sull'importanza di parlare tedesco se si vuole lavorare in Svizzera. Se volete muovere i primi passi, in descrizione troverete tutte le informazioni che vi servono. Per questo video direi che è tutto e non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima volta. Ciao! Ma quanto valgono oggi mille franchi su cambiavalute?